hello bell guys benvenuti in questo nuovo video scusate l'assenza ma ho avuto un po di problemi personali fra lavoro e salute tuttavia sembrerebbe andare bene e meglio quindi nulla di grave per il momento sono tornato a casa mia giù a sud dove ho iniziato a fare video e un po si può sentire per la qualità del microfono e appunto vorrei scusarmi per questo e non ho potuto portare anche con me la mia solita attrezzatura comunque sia faccio la mia solita introduzione se siete nuovi del canale e o siete nuovi del formato edison e non sapete da dove cominciare io sono destiny o qui comunemente conosciuto come stardust come preferite chiamarmi insomma e mi occupo principalmente di edison e in futuro spero anche del formato tengo plant ho realizzato una guida introduttiva al formato in cui vi spiego in maniera molto semplice come muovervi all'interno appunto di edison che troverete qui in alto a destra oppure qui sotto in descrizione se avete domande o richieste in particolare come appunto questo video potete scrivermi tranquillamente qui sotto nei commenti o direttamente su facebook tornando a noi oggi vi carico come vi appunto accennato poco fa una delle decklist che mi avete richiesto nello specifico mi era stato chiesto qualcosa che usufruisse del tempest magician come potete vedere nel video diversa dalla versione ftk e personalmente è una tipologia di mazzi che non mi divertono troppo di cui l'emblema possiamo dire ex odia ftk per chi non lo sapesse ftk sono quei mazzi che a primo turno vincono quindi pescono pescono fanno cose bla 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 se non hai counter e ciaune tralasciando ciò basandomi sulla meccanica degli spell counter ho provato a tirare una sorta di magician assalto che potesse appunto sfruttare in segnalini magia mi pare sia nell'italiano abbastanza veloce per competere contro il meta allora il mazzo obiettivamente sarò sincero con voi ragazzi lo sapete sono super onesto e sincero non vi dico che quella sorta di mazzo clickbait in cui a mazzo imbattibile a no counterplay omg deck no è un mazzo for fun per l'appunto divertente da giocare e mio parere parlando in generale la cosa che rende anche forte un mazzo è il fattore imprevedibilità nel senso che magari l'avversario o anche voi stessi non conoscete propriamente il mazzo contro cui si gioca e di conseguenza non si sa come giocare contro perché magari non sai bene le carte che può avere e allo stesso tempo diventa difficile si dare proprio perché tendenzialmente lo fai verso i mazzi più riconosciuti o quelli del meta fatte quindi le dovute premesse iniziamo con la decklist allora gioco due di questi che in italiano dovrebbe essere apprendista magico e cosa fa praticamente se viene evocato puoi bersagliare una carta scoperta sul terreno e piazzare uno dei segnalini di magia che vi ha accennato appunto tuttavia l'effetto diciamo che più ci interessa è il fatto che quando viene distrutto in battaglia possiamo evocare specialmente un mostro incantatore di livello 2 o inferiore coperto in posizione di difesa dal mazzo e a rigori logica come potete vedere la carta in questione l'apprendista arcano che è un tuner e se viene mandato al cimitero per l'evocazione di un mostro sincro quindi per una sincro evocazione possiamo aggiungere una modalità attirazione modalità assalto dal mazzo alla mano con le quali andiamo a calare il nostro mago d'assalto allora non ne gioco tre perché tre obiettivamente sono pesanti e vorrei farvi notare ricordarvi che i mostri assalto non possono essere evocati dalla mano con l'attivazione modalità d'assalto ma devono essere evocati per forza dal mazzo quindi uno mi sembrava poco dato che andiamo a spammare un bel po il mago d'assalto 3 per il motivo che vi ho detto poc'anzi 2 mi sembra il numero giusto perché non li vogliamo nemmeno vedere subito e abbiamo una maniera per farceli tornare nel mazzo ma lo vedremo poi più avanti inizialmente ho provato anche a testare uno un mago appunto un mago d'assalto uno stardust d'assalto però diciamo il mazzo per come è costruito gira un po più attorno al mago d'assalto diciamo facciamo più facilmente un sincro di livello 7 come appunto il mago che lo stardust che però ho voluto mettere di side anche per farvelo vedere e può essere magari utile contro determinati match up tornando al mago d'assalto cosa fa sto bestione praticamente quando viene evocato specialmente piazziamo due spell counter su di essi due segnalini magia e questa carta guadagna mille attacco per ognuno di essi quindi diventa un 2009 se decidiamo invece di rimuovere due segnalini magia possiamo distruggere tutte le carte che l'avversario controlla in più se questa carta sul terreno viene distrutta possiamo evocare specialmente uno di loro che appunto servono per la materiale per la modalità d'assalto che 80 90 per cento delle volte tranne che ne so di crow o dimensional fissure avremo quasi sempre nel cimitero un più è un mostro luce che come vedete dalla lista poi vediamo per chi è utile proseguendo abbiamo l'oracolo del sole e sostanzialmente è un cyber drago ora potreste dire allora perché non giochi cyber drago perché questo è un mostro incantatore semplicemente per per questo ed è necessario appunto come vedete un tune di tipo cantatore quindi ho preferito giocare lui ovviamente sabbia tra con lo spostato di side e può essere utile parlando del sabbia drago per buttare giù con i bittoni passando invece ai mostri livello 4 gioco mono breaker perché per me è una carta forte senso che è un potenziale millenove quindi è utile per buttare giù mostri bittoni come acquari shura per esempio inoltre è forte per spaccare una carta maggiore trappola sul terreno dato che obiettivamente molti mazzi spammono trappole quindi dimensione al prison in roar force eccetera eccetera tuttavia il contro è che molte anche di queste trappole o magie sono a mi vera di da inizione rapida tipo innesco rapido ecco quindi sono rapide come per esempio magari anche un typhoon o la gemini spark penso sia la cosa più esemplare o phoenix wing blast parlando di 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 trappole ed è per questo che lo gioco a 1 parlando invece del kiku allora io penso che kiku sia una delle carte più sottovalutate ma più forti che possono esistere nel formato per prima cosa impedisce all'oppo di bandire carte da qualsiasi cimitero quindi vaio turbo lo fai non male di più questa carta di più è anche forte come contro altri mazzi come il drago per l'appunto che per chi mi conosce sa benissimo che uno dei mazzi che più amo e più utilizzo e honestamente parlando consigliere anche a voi di portarlo a due caso che io appunto non gioco un altro design però secondo me un altro non farebbe male alla alla lista poi è dark è possibile target anche di allure caso che vogliamo pescare qualcosa di diverso poi gioco mono di questo che niente quando una magia viene attivata la carta magia viene attivata piazziamo due segnalini magia su questa carta poi una volta per turno possiamo rimuovere un numero di segnali magia pari al livello del mostro che vogliamo evocare dalla mano o dal cimitero quindi in questo caso principalmente andiamo a evocare lui quindi facciamo 426 e attenzione signori abbiamo il tempest magician ecco per l'appunto o magari vogliamo avere accesso a un livello 4 ma ad esempio gioco il summoner monk l'ho provato e non mi è dispiaciuto per il semplice fatto che allora all'inizio giocavo soltanto attorno al mago di arcanite tuttavia diciamo ho voluto provare a spaziare un po con le mechanical mazzo non che sia difficile da giocare assolutamente però giochiamo un consistente numero di carte magia e voglio darmi appunto accesso a singoli livello 8 che non ci fanno schifo insomma e appunto gioco il flamvel magician che è un tunnel livello 4 molto forte stavo valutando anche questo se portarlo a due perché a volte quando capitava in mano diventava morto del summoner monk poi gioco mono library che ok non mi ha convinto più di tanto devo essere sincero l'unico motivo per cui l'ho tenuta e perché appunto un target luce l'effetto non è male di pescare però poi ci prendiamo diciamo i danni faccia certo è un 2000 in difesa quindi per iniziare una carta ottima per via a 1 magari in late game potrebbe essere un po un po problematica quello come uno sun gun che un po si commenta da solo e il plug spreader zombie allora alcuni potrebbero portare anche a trail l'apprendista arcano tuttavia diciamo fortunatamente ledison è accessibile di conseguenza ottenere lo zombie on tour ormai non è più così complicato e secondo me secondo me è una carta troppo forte per non essere giocata anche perché possiamo effettivamente considerarlo forse il tunnel più versatile del del formato e infine come avevo accennato in un certo senso il caos sorcerer dato che abbiamo abbastanza mostri dark e abbastanza mostri luce da poterlo calare forte un livello 6 se andiamo a rimuovere una carta quindi magari ci togliamo carte fastidiose come lo stardust per esempio passando al reparto magie che come vedete molto sostanzioso gioco 3 stamp fusion perché il mazzo ho provato a farlo bene o male una sorta di turbo quindi voglio vedere sta carta prima possibile e stessa cosa un po per l'apprendista arcano che certo possiamo portare a 3 però ho preferito giocare il plug spreader zombie poi gioco 3 di queste che praticamente ci aiutano a minare i spell counter sul terreno e dopo che ne abbiamo utilizzato una possiamo prendere un'altra dal mazzo alla alla mano poi gioco trap start goblin per il motivo poco fa citato vorrei giocare a 37 37 carte sto mazzo sapete che io molte volte giochi mazzi a 41 carte e quindi se vi dico questo almeno per questo mazzo fidatevi poi gioco 2 vocuf moon perché dato che il nostro reparto trappole come potete vedere non è così sostanzioso diciamo abbiamo anche bisogno di qualcosa di difensivo in generale a 3 non piace molto tranne per alcuni mazzi come ad esempio il gladiator beast che porterò presto sul canale in real a 1 mi sembrava un po randomico a 2 secondo me ci sta appunto perché abbiamo bisogno di difenderci un minimo con questo mazzo caso che dovessimo pescare male poi è forte contro io ne so contro zombie per settargli pitunero mazzi simili la una delle carte chiavi è la città di la città della magica di endymion cosa fa questa potrebbe essere un po il cuore pulsante potreste anche pensarla di portarla a 3 e giocarvi in più secondo me anche terraforming cosa fa ogni volta che una carta magia viene attivata piazzate un segnalino magia uno spell counter insomma su questa carta una volta per turno attenzione se volesse attivare l'effetto di una carta che va a rimuovere uno spell counter anziché rimuoverla da quella carta potete farlo attraverso questa carta quindi esempio scemo avete breaker avete questa con un segnalino anziché rimuovere il segnalino da break potete rimuoverlo da la città della magica di endymion che non ci fa schifo quindi immaginate questa cosa per il mago d'assalto ecco inoltre se questa carta sta per essere distrutta potete rimuovere un segnalino magia da questa carta fate attenzione però se l'avversario attiva tempesta potente o il tifone mentre questa carta ha 0 segnalini questa va distrutta lo stesso è vero che in catena al tifone e alla tempesta ripeto mentre a 0 segnalini questa va a mettere un segnalino sopra tuttavia la risoluzione della catena non permette di riattivare l'effetto dopo dato che appunto si sta risolvendo la catena di conseguenza cittadella continuando il gioco citando le tifone tempesta può essere anche utile effettivamente abbiamo già un segnalino sulla cittadella e andiamo attivare tempesta potente lì possiamo rimuovere il segnalino quindi noi andiamo a conservarci la cittadella nel frattempo diseggiamo tutte le altre carte magie trappola sul terreno poi mono allure target dark ce ne abbiamo abbastanza maggior ragione se vogliamo portare kiku a 2 brain control e mind control perché giochiamo un modesto numero di per quindi secondo me era abbastanza doveroso giocarle entrambe ma al che va se non vi piace ma incontro dubbio che non vi piaceva incontro portate una delle due di side e come ultima carta magia gioco il teletrasporto assalto per il motivo che piacciono prima perché se vi viene in mano uno di questi due diciamo siete un po fregati dato che a parte che con questa carta non avete alcuna maniera per rimetterlo nel mazzo tranne che magari anche col plug spreader zombie quindi questa cosa va vabbè abbastanza semplice l'effetto prendiamo un mostro modalità assalto che abbiamo in mano mi raccomando mostro e lo mettiamo nel mazzo vabbè mischiate sempre per sicurezza e pescate due carte o infine per le trappole che vi avevo già detto prima sono tre modalità d'assalto è un solo judgment se vi devo fare una piccola critica forse aumenterà il comparto trappola semplicemente aggiungendo una starlight forse dato che pieno di blackwing quindi caro ve lo prendete spesso in faccia però anche vero che il mazzo abbastanza aggressivo c'è deve essere veloce quindi prima fate la combo meglio ciò più sia sulle vostre probabilità di storia per quanto riguarda l'extra gioco un dark fire dragon e 2 musicista per quanto riguarda le fusioni calabri di stand fusion potreste aumentare anche il numero di funzioni che ne so portandone qualcuna di una funzione livello 3 tipo il fusionista o lo so non giocate cybersauro perché appunto il mago di arcanite necessita di spellcaster non tuner stessa cosa anche anche lui avevo cercato un livello 4 fusione in edison incantatore ma sembrerebbe non esserci quindi proseguendo abbiamo detto questi due tastor anzian fairy dragon l'accarina magician perché chi non lo conoscesse praticamente quando viene synchro evocato synchro evocato non evocato specialmente che ne so dal cimitero di una cavolata quando viene synchro evocato piazzate due speck counter su di esso questa carta guadagna mille di attacco per ognuno di questi e poter rimuovere uno speck counter per distruggere una carta controllata dal avversario e distruggerla poi gioco un armory arm un black rose dragon rionac con guardian un urb uno stardust tempest magician che potrebbe essere una delle vostre win condition e vabbè anche di questo rischio con effetto dato che un po più di nicchia rispetto alle altre carte una volta per turno puoi scartare un qualsiasi numero di carte per piazzare un numero di segnalini magia pari al numero di carte che hai scartato poi puoi rimuovere tutti gli spell counter sul terreno scusate per integrare 500 danni all'avversario per ogni spell counter rimosso quindi ponendo caso che siano tre spell counter fate 1500 danni ed è per questo che anche la città di endymion diventa broken dato che potreste letteralmente fare anche 4000 di danno così a caso e infine una scelta per le dominatorie di pensieri per quanto riguarda la side la faccio vedere molto molto velocemente ho messo di sebbe draghi contro macchina tra godia contro mazzi ottica aggressivi come per esempio pure drago stesso il kiku ve l'ho accennato poi potenzialmente potreste vedere anche questa carta e con l'apprentista magico non è malaccio praticamente un flip monster che distrugge una carta mostro dell'avversario non mi piace che quindi per quello che non l'ho messo di me quando riguarda il dad non l'ho messo l'ho voluto mettere apposta di side per parlarne più che altro e di conseguenza vi spiego perché allora a differenza di altri mazzi come esempio l'hopeless dragon o che ne so l'ice on twilight non andiamo a macinare carte con sto masso diciamo che differenza di altri mazzi citati non andiamo a gettare così tante carte nel cimitero quindi il dark army dragon paradossalmente si può essere forte ma secondo me per questo tipo di mazzo o più rallentarvi che che altro stadda se ne abbiamo parlato il team eratech fort essere con pure poi questa è una carta molto molto carina che se doveste giocare terraforming diventa ancora più forte che praticamente il villaggio segreto degli incantatori che mi ricordo quando ero piccolino nessuno e dico nessuno conosceva sta carta ve lo giuro questa è il kaiser colossi nessuno se le se le calcolava ma ragazzi sono veramente forti c'è per dirvi una cavolata se controllate mostro incantatore il vostro avversario non può attivare carte magia e video di ovviamente faccia della meta l'altra faccia della medaglia se tu non controlli mostri tipo incantatore non può attivare carte magia che potrebbe essere un lock però obiettivamente come vedete il mazzo a parte pack spider zombie e sanga è solo composto da mostri di tipo incantatore poi gioco spada rivelatrice ho messo pure come carta che potrebbe essere carina che se volete guadagnare tempo contro mazzi che sono troppo più veloci rispetto a voi non è così malvagia vi pare il culo per un po fin quanto appunto non trovate le carte necessarie per fare la combo quello che dovete fare il virus devastatec alla solo e forte ci abbiamo la possibilità di farlo abbiamo lo stregone abbiamo yes magician insomma fidatevi che c'è la maniera per per calarlo giù questo questo virusone questa potrebbe essere invece una carta pure carina di tech che cosa consiste se un mostro incantatore dichiara un attacco ogni giocatore evoca dal mazzo posizione d'attacco un mostro incantatore di 2000 o inferiore di di attacco e magari potrebbe anche essere utile per calarvi il tuner o l'altro materiale l'altro chi chi usa il mazzo insomma certo tipo vabbè vedete voi è molto situazionale e poi la stata perché vabbè e questo era tutto da questa decklist ragazzi io spero di avervi soddisfatto in particolare l'utente che ha chiesto la lista non è affatto costoso come come mazzo a maggior ragione se già possiedi il tempest magician e altre si trovano tutte come come un'az bene o male e quindi sulla base di quanto detto se avete magari qualche richiesta in particolare come hanno fatto già altri utenti infatti alcune decklist sono già in coda scrivetemelo qui sotto e quando posso proverò a testarle per poi caricarle e discuterne appunto io vi ringrazio ancora una volta per aver guardato il video fino a questo punto arrivederci al prossimo video see you next time